Siamo in piazzetta Bruno Grampa, oggi riapre lo storico Cortiletto, una sfida portata avanti dall'imprenditore Alessandro Colombo. Come mai ha scelto di lanciarsi in questa avventura? Innanzitutto la passione per il bere e per il mangiare, quindi quando c'è stata la possibilità di questo bando comunale del vecchio Cortiletto ho avuto questa idea, questa pazza idea di poter partecipare al bando che vinse qualche anno fa e che finalmente adesso ha preso forma e domani iniziamo. Il Cortiletto nasce con l'idea del food e beverage e la piazzetta è storica, riprende un po' anche la mia infanzia perché da piccolo venivamo sempre a divertirci e a mangiare nel centro e questa piazzetta è il cuore di Busto Assezio. È il cuore del cuore di Busto che torna a battere? Assolutamente sì, batterà sempre più forte. Oggi riapre il bar, l'intenzione poi è quella di aprire anche il ristorante? Sì, stiamo cercando il personale, il progetto presentato riguarda bar, ristorante e una gastronomia, attualmente partiamo con il bar, con aperitivi e pranzi e successivamente in base al personale che troveremo continueremo con il ristorante. Un bocca al lupo. Crepi, grazie.